Ora andiamo la linea, scherzavamo anche ovviamente sulla statura, sull'altezza di Berat, davvero un fisico imponente, un'altezza impressionante quella di Berat De Mesite. Allora Berat, iniziamo subito con un commento a questa partita, un pareggio tutto sommato giusto, una gara abbastanza equilibrata. Penso che la partita era difficile di giocare perché Trapani è una buona squadra. Penso che questo pareggio è importante per la squadra perché abbiamo perso contro Entella e questo è importante per la squadra di cercare di vincere. Abbiamo detto con mister Toscano che la nota positiva di quest'oggi è il reparto difensivo. Hai già fatto vedere di che pasta sei fatto un grande difensore per questa Serie B e per l'Avellino? Sì, ho sentito che la difesa è molto importante, abbiamo guardato in allenamento che siamo bene in difesa e questo l'abbiamo fatto, penso. Non solo io, penso che tutta squadra devo lavorare difensivo e questo l'abbiamo fatto. Berat, raccontaci un po' le tue caratteristiche tecniche, anche se le abbiamo viste molto bene già quest'oggi e anche con la nazionale albanese in settimana hai fatto benissimo. Cosa da dire? Penso adesso era importante che ho cambiato perché io devo guardare di giocare per avere fiducia. Con la nazionale era importante che ho giocato, ti ritorno qui a Avellino con confidente, penso che perché abbiamo vinto con la nazionale è la mia forza per oggi. Conoscevi Avellino e soprattutto hai qualche ex compagno che ti ha parlato di Avellino? Sì, Radunovic è qui, Asma, che hanno giocato a Atalanta e mi hanno detto che è una buona squadra, sempre insieme, buoni compagni. Berat, sei nato in Svizzera però poi hai scelto l'Albania, perché? Perché mio papà e mamà sono albanesi, perché per me il cuore è albanese e per questo ho scelto Albania. Un'ultimissima curiosità, la pronuncia esatta del tuo cognome, perché siamo andati un po' in difficoltà. Dim City, Jim City, raccontaci un po' com'è il tuo cognome. In Albania si dice Jim City e qui in Svizzera e anche in Italia si dice Jim City.